L'associazione antimafia da sud festeggia dieci anni di attività sul territorio di Roma. Grazie perché quando gli altri semplicemente guardavano voi vedevate, ha detto il perfetto Franco Gabrielli, in servizio di Nazario Basili. A Roma siamo ancora nella fase in cui lo Stato si compra, lo ha detto l'assessore capitolino alla legalità Alfonso Sabella alla festa in occasione del decimo compleanno della sua azione antimafia da sud. Una tre giorni per rinsaldare la cultura della legalità e per chiedere alla società e alle istituzioni un cambio di passo nella lotta alle organizzazioni malavitose. La manifestazione si è svolta nel fine settimana in un luogo simbolo di Roma, la casa del jazz, ricavata in una villa confiscata alla banda della Magliana. Restart, questo il nome del festival della creatività, ha voluto segnare una ripartenza anche con il coinvolgimento della musica e delle arti figurative in coincidenza con un cambiamento culturale che faccia della lotta alla malavita un valore pubblico e privato. La Kermess ha voluto rappresentare una risposta a mafia capitale e ai recenti fatti di cronaca che hanno dato della città un quadro allarmante. Purtroppo in questa città per troppo tempo si è anche guardato ma non si è riuscito a vedere. A volte, come dico provocatoriamente, è più maleodorante un cassonetto di un'operazione di riciclaggio. Ma il cassonetto, con un po' di impegno, con un po' di organizzazione, si pulisce e si riordina. Le operazioni di riciclaggio che molto spesso non emanano profumo ma inquinano profondamente i meccanismi della società e le regole dell'economia sono molto più devastanti. Sul palco della manifestazione si sono succeduti politici e rappresentanti delle istituzioni. Esponenti del mondo del cinema, del sociale e della politica sono stati premiati per il loro impegno contro l'illegalità.